Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo la ginnassa del CSB e oggi faremo un video, un challenge, un gioco con il cerchio. Che consiste nel praticamente lanciare il cerchio, cioè girare il cerchio, lanciarlo e riuscire a fare tutto il cerchio senza farlo vedere. Buona visione. Ok, andiamo. No, anzi, basta che lo prendiamo tutti. O io vado, quindi mi viene. Prego! Questo, ma la ginnassa se lo lancia da sola. A sola! Prego, non lo lanciarlo. Lancia da così! Ok, 8, 8, 8, 8! Ok, la ginnassa da sola, la ginnassa da sola. Ottimo! Ottimo! Sì, non lo vuoi fare, non lo vuoi fare. Bomba! Sì. Viene lui! Sì, ma io c'è la fлена dù Rox favour prize… Non lo vuoi fare… Insigne alla Heaven.. Sì, non lo vuoi fare, non lo vuoi fare, si sonobl правда. Sì, non so se invece tra la gialla e la pietra Io non accendo, basta, sicuramente Se già arriva E' veloce E' veloce E' veloce No, no, no Non so se ti conviene stare lì Io non lo so sto Ma perché? Il gioco è fallito e non ce l'abbiamo fatta Esatto Speriamo che il video vi sia piaciuto Lasciate tanti pollici in su Ma scusate E iscrivetevi Ciao